Niente da fare, il protocollo di intesa tra comune di Foggia, regione Puglia ed Arca Capitanata, definito per offrire una soluzione abitativa ai 78 residenti dell'ex distretto militare e della palazzina la terza traversa di via San Severo, non piace, soprattutto a chi vive nei pressi della scuola Moscati di via Ugo Lamalfa, che assieme all'ex scuola Lepore di via Ordo Nalavello, è stata individuata come immobile che dovrebbe essere trasformato in alloggi temporanei. Molti di coloro i quali vivono nella zona adiacente Parco San Felice non vedono affatto di buon occhio questa strada, in primo luogo per il timore di un ulteriore depauperamento dell'offerta di spazi scolastici, già che la Moscati è attualmente funzionante, ospitando la sezione distaccata della scuola media Catalano Moscati. Sebbene non siano ancora chiari i dettagli della trasformazione dell'istituto in abitazioni, proprio questo elemento rende verosimile che la parte della struttura scolastica da riconvertire sia quella in cui il comune ha spostato l'ufficio toponomastica, il che di conseguenza determinerebbe una convivenza tra attività scolastiche e vita quotidiana delle famiglie che lì sarebbero trasferite. Ben inteso, nessuno nel quartiere contesta la necessità e l'urgenza di assicurare un tetto a chi oggi risiede negli immobili dichiarati ad imminente rischio crollo dai vigili del fuoco. Ciò che si lamenta è l'assenza di dialogo tra chi ha assunto la decisione e chi vive nella zona e ovviamente l'idea che questa via possa essere realmente una soluzione e non, come invece si teme, l'ennesimo intervento tampone destinato a diventare strutturale anziché provvisorio. Il tema dunque riveste una particolare delicatezza, non solo per i residenti del quartiere, ma anche per chi in quella porzione di città opera gestendo il centro polivalente Parco Città. Anche da loro infatti giungono perplessità circa l'efficacia di quanto partorito da Palazzo di Città, Regione ed ex Istituto Autonomo Case Popolari. Dai sottoscrittori del protocollo d'intesa per il momento non arrivano spiegazioni. La realizzazione di quanto contenuto nell'accordo è fissata in 12 mesi e forse un chiarimento prima che la sua attuazione muova i primi passi sarebbe un passaggio opportuno, oltre che doveroso.